salve polletti questo electric Oggi esce il DLC di Dark Souls 3 Ascies Ascies Oh Arian Quella roba lì E per festeggiare ho quindi deciso di fare un cartone senza senso Prima di tutto siccome lo fanno tutti voglio anch'io doppiare gli animali Magic Carp Carp Oh no No Ora parleremo di polli La sostanza più nutriente che ci sia al mondo, soprattutto se la riempi di Nutella. Non lo sapete come fa il pollo? Il pollo fa... Abba, 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 abba. Ma soprattutto da dove arriva il pollo? Come tutti sanno arriva da San Severino Marche. Un posto appunto nelle Marche famoso per... Sto ceppo! Benvenuti sulla Media Shopping. Acquistate un materasso della Media Shopping. Ora avete in regalo un ceppo, anzi sto ceppo, anzi due ceppi in omaggio. Che potete utilizzare per grattarvi la schiena. Ma soprattutto come fanno i ceppi? Fanno così. Abba, 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 abba. Intanto domani sicuramente uscirà un gameplay del DLC. Asci, asci, quello lì. Lo sapete che cosa vuol dire attendere un DLC? Con tanta esitazione, con tanta agitazione, con tanta eccitazione, con tanta... Ceppo? Ma soprattutto come fanno i DLC? Fanno così. Abba, 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 abba. Grazie a tutti.